Mi scusi Io la denuncio Lei non mi può chiamare per nome Io non uso nivea e creme con i siliconi Lei chi è? Ciao ragazze Eccoci qua con i nostri telefonini Già pronti per fare questo video Per i 300k speciali 300.000 iscritti Siamo troppo troppo felici Vi ringrazio tantissimo per tutto l'affetto che sempre mi fate sentire Perché siete iscritti al mio canale Perché guardate i miei video Abbiamo raggiunto 300.000 iscritti Dopo aver raggiunto 100.000 iscritti sul secondo canale Adesso anche 300.000 Quindi sono grandi numeroni Ovviamente vi ringrazio con tutto tutto il mio cuore Ma per ringraziarvi ho pensato di fare una cosa divertente Una sorpresa L'abbiamo chiesto in un video vecchio di lasciarci tutti i vostri numeri di telefono Apparentemente faremo delle chiamate anonie Degli scherzi telefonici a voi E ci divertiremo assieme a voi E vediamo se ci riconoscete E se ci mi diamo la parola Non lo so Ok speriamo tanto che questo video vi piaccia E mi raccomando se vi piace mettete un bel pollice in su per questo video Che è un'idea troppo troppo carina Originale e spirituosa Se raggiungiamo 15.000 like Ne faremo subito un altro Quindi ragazze like 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 E vi invitiamo anche a vedere lo speciale che abbiamo fatto sul secondo canale Ossia la challenge delle 3000 calorie E vi lasciamo il link in sotto impressione nel box in formazione E iniziamo subito con le telefonate Speriamo che nessuno ci voglia farò Rispondi in segretità Ma Martina Ciao Martina Camilla dai Almeno tu rispondici Camilla Caro non lo so Pronto? Pronto Camilla? Sì Stiamo facendo un'indagine di mercato Vorrei sapere un'altra cosa Può rispondere? Può rispondere? Guarda a casa Guarda a casa Guarda a casa Oddio Che cazzo Questi c'è il pallone Vabbè Andiamo Dì l'indagine di mercato Salve Enza Parlo con Enza Stiamo facendo un'indagine di mercato Pronto? Stiamo facendo un'indagine di mercato Posso rubarle un minuto? È in personaggio Pronto? Sì Enza? Sì Volevo sapere Ma lei usa prodotti biologici O non interessa? Capita Ciao Ciao Saluta a tutti Se è nel mio video Ciao Ciao Mi hai sgavato in piedo Ciao Ciao Sì Saluta dai Ciao a tutti Grazie per averci risposto Ciao a tutti Non so Non so non le piace L'ho legione Non so non le piace? Non so non le piace? Non so non le piace? Assolutamente no E perché? Perché io vi faccio il video e vi fa bene Brava Hai vinto un saluto da Carlita e Dezzi Stefania Sei in diretta del nostro video Quindi ti rivedrai su Youtube Ti abbiamo chiamato a caso Quindi sei la fortunata vincitrice non dell'Orio Johnson Ma della nostra telefonata Mi fa piacere tesoro Ti auguro buon lavoro Visto che sei in diretta vuoi mandare un saluto Su Youtube a qualcuno Fabrizio ciao Va bene mandiamo un bacio a Fabrizio Tesoro ciao e buon lavoro Buona serata Grazie Ciao tesoro Ciao tesoro Ciao Gabriella Ciao Milanesia Pronto Salve Gabriella è un'indagine di mercato posso rubarle un minuto? Sì Volevo sapere Volevo sapere lei segue Youtube? Sì Qual è il suo canale preferito? Seguo Carlita Brava La risposta è la risposta vincente Ciao Ciao Sei in diretta nel nostro video speciale per i 300k Ciao Gabriella Ciao Gabriella Messaggio Messaggio qualcosa Qualcosa cosa ci vuoi dire Di non credere alla risposta che scrivono tutti i commenti sui tuoi video Oh che carina Che carina Grazie Gabriella sei veramente un tesoro Ti mando un bacio grandissimo Ti mando un bacio grande 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 E ti rivedrai nel video Va bene? Spero ti abbia fatto piacere questa sorpresa Grazie a te Pronto? Carmen? Ora sì Ma come si è permessa di andare al supermercato e comprare la Nutella? Che è piena di olio di palma Non lo sa? Pronto? Sì Come mai le compra ancora la Nutella? Non lo sa che c'è l'olio di palma dentro? Non si fa Carmen Carmen Cattiva Allora le comprono la Nutella? Le chiamiamola di nuovo Le chiamiamola No Ma ci cavolite con Carmen Pronto? Carmen? Sì Ma io non lo so Ma allora è vero che le ha comprato la Nutella? Ma che c'è l'olio di palma? Non lo sa che è dannuta la Nutella? Che fa male? Va bene Va bene Ok È piena di olio di palma Ok Carlita sei tu? Non lo scavacco Non prendo la paura Che amica che mi vuole sfottere Eh ma lui è di palma Di qua Di là Ma che fa? Ma che c'è l'olio di palma? Ti sei messa paura proprio Pensava che era una sua amica Che la voleva sfottere Perché lei è sempre fissata Che non compagno Ma ora ci devi confessare sta cosa Ma veramente comprato la Nutella? Io no 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 È bandita È bandita grande Che bella cosa Ma che tavolo Tesoro Hai visto che mi hai attaccato il telefono in faccia Ma io ti ho richiamato Avevo capito che sei una brava persona E non hai comprato la Nutella Non è molto bene Non è molto bene Non è molto semplice Tesoro Vuoi mandare un saluto a qualcuno? Visto che ti vedrai nel video su YouTube Lo speciale di 300k Dici qualcosa? Allora non sono tanto fidanzata Qua vicino a me E come si chiama? Che sono una ridicola Antonio Antonio Lei ti ama tanto tanto Ti mandiamo un bacio grande Ti mandiamo un bacio grande Tesoro Ti ringrazio per non avermi attaccato il telefono Ti faccio la seconda volta Sei troppo simpatica Sei troppo simpatica Dai mi ha fatto piacere i servizi Ti mandiamo un bacio grandissimo Tesoro Vedi ti puoi nel video Grazie tesoro Ciao bella Ciao 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 mi ha patito Mi ha dato solo saluto Grazie Grazie mille Servirò Ciao 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 Non scherzo che lei ha rubato qualcosa Questa scena è l'impasto Perché è la faccimia L'ultimo proprio Chiudiamo col bot Questa scena è l'impasto Questa scena è l'impasto Ma che spugno Ma che cosa scena è l'impasto Ma che cosa scena è l'impasto Ma che cosa scena è l'impasto Posso parlare con la mamma Eh ci va bene mio padre No con la mamma Ma perché cosa Ma perché cosa Chiamo dall'ipercoppo Vorrei parlare con la mamma Ma che coppo C'è l'ipercoppo Non lo so Un attimo Pronto Lucrezia Chi è lei Chiamo dall'ipercoppo Le volevo dire Non ho capito Scusi Dall'ipercoppo Chiamo E che vuole Volevo dire Noi dalle telecamere nascoste Abbiamo individuato un furto Di una crema nivia Crema nivia Io non le uso proprio le creme nivia E come mai non le usa signora Ma io non lo so Lei l'ha rubata Ma lei ha rubato È un numero privato E io non rispondo Anzi la rintraccia La denuncio Lucrezia Mi scusi Io la denuncio Lei non mi può chiamare per nome Io non uso nivia Creme con i siliconi Lei chi è? Io sono responsabile dell'ipercoppo Ma come mai Lei non usa le creme nivia Io non le uso perché ci sono dei siliconi Quindi non so lei che cosa sta dicendo stasera Ma lei questo adesso cosa importa Dei siliconi Lei che interessa nel furto Dei siliconi No È una curiosità mia Mi scusi Dato che sono una donna come lei Vorrei capire Chi le ha detto che queste creme non sono valide Questo lo dico io Ed è una mia documentazione Adesso non capisco questo All'eco Cos'è in porta di questo Con una domenica sera Che io ho una febbre alta No discusi ma lei Di questo sono rammaricata Però ci... Lei è rammaricata Ma lei lo sai che è una febbre altissima Io E sto a perdere tempo Con una deficienza Se l'eco Lucrezia Chi è? Chi è? Indovina C'è Chi è? Chi è? Chi è? Pronto È indovina chi sono È uno scherzo È uno scherzo? Ma chi sei? È indovina Non lo so Una persona che tu segui Forse Sì sono io Lucrezia Ma veramente c'è la febbre Veramente c'è la febbre Ciao Sono stata cattiva Ti ho fatto uno scherzo brutto Però per ridere un po' Stai nel video tesoro Sì Sì Ma veramente c'è la febbre Amore Sì c'è un po' di bello Mi dispiace Però io Sei arrabbiata con me Io ti amo Grazie tesoro Ciao Vuoi Vuoi Per piacere Ti voglio bene Adesso mi è emozionata Un bel regalo Dai Ma è bello che ti c'è un modo Che ti interessa Che ti interessa No ma poi la cosa bella Io non le uso Le crepe nivea Brava Ma poi mi sei presa in giro Ma poi mi sei presa in giro con me Capista Cassini Bravo brava Adesso Tu non sei una cosa Il susto A me non è proprio da me Ma lo so Adesso Infatti oggi ho fatto un scherzo un po' Cattivello per farci due risate Adesso secondo me sai come si arrabbia Mi farete pelle creme nivea voi Vai sempre avanti a te salta Grazie Grazie Ti sostengo sempre Grazie mille Sincera e vera come me Capito? Grazie Lucrezia Ti voglio bene Ti voglio bene Un bacio grande A tutti quanti Salutami alle tue figlie A tuo marito A tutti quanti E scusaci per lo scherzo che ti abbiamo fatto Scusami tu mi sono una serata felicissima Meno male Così ti passa la febbre Vabbè Veramente Ti voglio bene Eeeh Anche 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 Lucrezia è stata bravissima Le creme nivea Chi le usa Grandi ste ragazze Veramente è stato super diventantissimo Oddio Noi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando raggiungiamo 15.000 like Per questo video Così appena raggiungiamo 15.000 like Lo rifaremo un'altra volta Lo rifaremo di nuovo Chiameremo Chiameremo all'impazzata tutti noi Adesso l'abbiamo fatto per i 300.000 iscritti Ma se raggiungiamo 15.000 like Cioè non appena le raggiungiamo E raggiungiamo Subito Subito Lo rifaremo Perché è troppo divertente E poi ci fa piacere Sì E poi siete contentissime Troppo 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 carino poter parlare con voi Vi mandiamo un bacio grande Speriamo tanto che il video vi sia piaciuto E ci vediamo domani con un nuovo video Ciao Ciao A presto!